Replica Ballando con le stelle del 21 aprile su Rai Play e Rai Premium Ballando con le stelle 2018, replica settima puntata 21 aprile in tv e streaming Stasera appuntamento da non perdere con la settima puntata di Cancelletto Ballando con le stelle 2018, lo show di Rai 1 condotto da Millie Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, che si sta avviando verso il gran finale di questa ennesima edizione di successo Settimana dopo settimana, infatti, la gara di Ballando con le stelle entra nel vivo e gli ascolti del programma diventano sempre più rilevanti. Doppia eliminazione da Ballando con le stelle 2018 del 21 aprile La media dello show attualmente risulta essere di oltre 3 8 milioni di spettatori e soprattutto nelle ultime settimane abbiamo visto che lo show della Carlucci ha dato filo da torcere al programma di Canale 5, Amici di Maria de Filippi che si è fermato ad una media di appena 3 9 milioni di spettatori battuito al debutto dallo show della Carlucci che ha ospitato in studio la coppia Albano-Romina Insomma la sfida del sabato sera di questa stagione primaverile sembra essere tutt'altro che scontata e dopo il pareggio di sabato scorso, ecco che le due fuoriclasse della tv italiana scaldano i motori per questo sabato 21 aprile Le anticipazioni ufficiali rivelano che Ballando con le stelle potrà contare sulla presenza di uno degli attori più amati dal pubblico di Rai 1, stiamo parlando di Terence Hill, protagonista della fiction dei record Don Matteo, giunta al termine proprio questa settimana In questa nuova puntata di Ballando con le stelle, però, ci sarà spazio anche per una doppia eliminazione che saprà sicuramente tenere incollati gli spettatori dall'inizio alla fine dello show A inizio puntata, infatti, si partirà con l'eliminazione tra Cash e Amedeo Minghi, i due concorrenti che la scorsa settimana hanno avuto la peggio al televoto e che solo stasera scopriranno il verdetto finale Rivedi Ballando con le stelle 2018 del 21 aprile in tv e streaming E poi al termine della gara della settima puntata scopriremo anche il nome di un'altra coppia di ballerini VIP che dovrà lasciare definitivamente la gara e quindi rinunciare alla possibilità di accedere alla finalissima, anche se possono sperare sempre nel famoso ripescaggio Intanto per tutti coloro che questa settimana non potranno seguire la settima puntata di Ballando con le stelle 2018 del 21 aprile in diretta tv, vi ricordiamo che potete rivederla in replica streaming su raiplay.it e potrete rivedere la replica anche in tv su raipremium Lappuntamento è fissato per lunedì 23 aprile in prime time. Cancelletto Ballando con le stelle 2018 replica Cancelletto Ballando con le stelle streaming